Se state cercando uno spazio commerciale ampio, nuovo, visibile su strada, siamo a Codrerio nel posto giusto. Qui è stato studiato per un'eventuale reception dove ci collega a ben 8 locali. Venite con me! L'edificio è stato ristrutturato nel 2023, quindi è nuovo, ha sia l'impianto di riscaldamento che di raffrescamento e ha molti parcheggi disponibili. È stato pensato per un'attività molto grande oppure per due separate, una al primo piano e una al piano terra. Qui abbiamo una doccia personale, un ulteriore locale e nella seconda aria troviamo bagno personale, ulteriore studio, vano comune che ci porta ad un ulteriore ufficio. e ci ritroviamo qua. Ci troviamo al piano terra dove abbiamo altri uffici molto ampi. Questo è un locale unico ma si potrebbe anche dividere con questo separato. Abbiamo delle grandi vetrate con una faccia diretta sul palco. Qui abbiamo la pausa caffè e qui abbiamo un secondo ufficio più piccolo. Qui sono gli spazi in comuni con il primo piano. Qui abbiamo subito l'ascensore e i doppi servizi. Il primo, molto importante, è il bagno degli handicap, che per tante attività lo richiedono, bagno di servizio e il cavo. Infine, a parte, abbiamo questo spazio magazzino che si può affittare anche separatamente. Grazie.